Hola a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft Ita No aspetta, è Minecraft City questo Eh si, siamo nella nostra città, ma certo che sono deficiente ragazzi, come ho fatto a sbagliare oggi Non mi è mai capitato, ma oggi ho sbagliato Comunque, siamo su Minecraft City e oggi andremo a fare un paio di caccia al tesoro sempre fatte da voi Oggi non voglio darvi nessun numero da superare, quindi mi raccomando lasciatevi un mi piace a vostro piacimento E vediamo quale numero riusciamo a raggiungere Comunque, detto questo, in descrizione trovate il link dello shop delle mie magliette Iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per non perdervi nessun altro mio video E detto questo, ne possiamo in... Nooo, cosa gli ho fatto perdere raga? Proprio qui, se l'ha schiantato uno con l'Elytra Vabbè ragazzi, detto questo, ne possiamo iniziare subito Che intro bislacca oggi Ok ragazzi, quindi siamo qui Sopra il mega testolone di Emeraldone E là sotto stanno facendo qualche magheggio Nella mia casa Voglio un attimo andare a vedere che stanno combinando Quindi svolichiamo subito qui Che stanno combinando questi? Mmm, non mi convince Non mi convince molto questa cosa ragazzi Ehm, vabbè, ok Comunque come ho detto, oggi andremo a fare ragazzi delle cacce al tesoro Visto che vi piacciono così tendere le cacce al tesoro E vi ricordo che potete tutti voi creare una caccia al tesoro Fare un libro come questi qua E buttarlo qua dentro In modo che nei prossimi episodi andremo a fare diverse cacce al tesoro Volendo potete fare anche delle cacce al tesoro Con una storiella dietro O con una certa tematica In modo che le andiamo sempre un pochettino di più a variare Comunque, io direi che possiamo iniziare subito Quindi prendiamo subito Caccia al tesoro by Exau Quindi, teso destro Caccia al biscotto Ok Abbiamo soltanto queste coordinate E direi che possiamo Tiparci subito Opla Uh, ecco qua Già qua ragazzi c'è la chest Allora, vediamo cosa ci dice qua Abbiamo un libro Allora, questo qui lo mettiamo qua dentro Anzi, facciamo una cosa ragazzi Tac Prendiamo il libro di Exau E lo mettiamo qua dentro In tutti i libri che ho già letto Ok, se finiva nel fuoco la shul club piangevo tantissimo Prendiamo questo libro E vediamo cosa ci dice Sotto lo sguardo vigile del creeper Si cela la sua ninfea preferita Intrigante come cosa Sotto lo sguardo del creeper Allora, vediamo se qua vicino c'è un creeper A meno che non ha messo qua dentro un creeper Non penso che ci sia un creeper Giusto? Penso di sì Penso proprio di sì ragazzi Cioè, dove potrebbe essere un creeper? Eccolo! Ragazzi Questo qui è il creeper Cosa diceva il libro? Aspettate Sotto lo sguardo vigile del creeper Si cela la sua ninfea preferita Quindi sotto lo sguardo del creeper Quindi io li guardo per di qua Si cela la sua ninfea preferita Ah, eccola! C'è una cesta! Easy Tac Vediamo Cosa c'è scritto adesso in questo libro ragazzi Ma a me che sono belle le cacce al tesoro Nella torre detta manubrio C'è una porta che conduce lontano Allora Ah, è questa qui penso sì A forma di manubrio ragazzi C'è quindi una porta che conduce lontano Beh, entriamo dentro E incominciamo ad esplorarla Ok, di qua si esce Ci sono diverse ceste Questa qui è vuota Ok, vediamo un pochettino Forse si sale Uh, quanta bella roba che c'è qua Vediamo Aspettate Vediamo un attimo sopra Che può essere ci tocca salire ragazzi Non lo so Noi per sicurezza esploriamo tutto Perché naturalmente voglio completare questa caccia al tesoro Allora Ma no, stiamo salendo Ok, eccoci Ah, non c'è nulla Ci sono rimasto male Beh, riscendiamo No, ci metteranno a dire un quarto d'ora adesso raga Comunque volevo ragazzi Spoilerarvi una piccola cosa Questa domenica Inizierà una nuova serie Sempre su questo server Quindi aspettatevi due video in più Extra alla settimana Sulla nuova serie Quindi raga Più video ancora per voi Se siete contenti di questa cosa Fatemelo sapere qua sotto nei commenti Mi raccomando Saranno due video extra Quindi Non andranno a sostituire nessuna serie Questa serie ci sarà sempre Sempre due volte a settimana Ma in più Ci saranno nuove serie Due volte alla settimana In più Quindi ragazzi Caricherò quanto 10 video a settimana Io mi sa Vabbè Per voi questo è altro Comunque Ma non c'è una mela d'ora Perché sono veramente contentissimo Ma sono un poco contento Anche perché No, sto trovando Sta porta che conduce lontano Ma che vuol dire La porta che conduce lontano Può essere un portale del nether Sotto In quel senso Qua Ma Attenzione Ma Ma Vabbè Io gli lascio il regalino qua dentro Raga L'ha fatto come l'ha fatto Nella mia vanilla ragazzi Lo stesso anche qui Il calderone Per fare il lavandino Questa qui No Ma raga Ho visto tutte le porte Ah no Questa Eccola Madonna raga Ma potevo vederla prima No vero Oh Vediamo se ci dimmi che deve andare con i minecart Attenzione Non scendere dalla carrozza No raga Si prospetta qualcosa di veramente bellissimo Tac Tac E si parte No vabbè raga Che bello Raga scrivete qua sotto nei commenti Con l'hashtag Minecraft city Di quanto vi piacciono queste cache al tesore Se ne volete ancora di più Dove ci sta portando Eh vabbè raga Madò Di percorso lunghissimo che stiamo facendo Mamma mia Però mi ha detto di non scendere mai dalla carrozza E io questo lo andrò a fare ragazzi Starò fermo qui Fino a non ci fermeremo What Cosa Ma noi stiamo finendo raga Uh Eccoci Uh Ecco qua Emera 96 Un altro libro Bellissimo mi piaccetto comunque raga Per rimanere in tema del minario 9 3 quarti Comunque Nello scantinato della casa Troverai Il passo successivo Per rimanere in tema Del minario 9 3 quarti Nello scantinato della casa Ok Quindi lo scantinato di una casa Perché Harry Potter Dormì in uno scantinato Ah vero Ma XO è anche il creatore di questa Zona bellissima Ma potrò adesso lo scantinato della casa Quale sarà Vediamo Raga Continuiamo ad esplorare Mamma mia Questa caccia del tesore è veramente lunghissima Forse prenderà tutto Guarda quanti bellissi standardi Fatti con tutti i supereroi Dobbiamo trovare lo scantinato della casa Vediamo un pochettino Di qua non c'è nulla Chiudo anche le porte Ah eccolo qua Forse l'ho trovato raga Allora Uh 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 Forse questo qui Oh eccolo L'abbiamo trovato L'altro libro ragazzi Continuiamo Vediamo un pochettino Il puffo biscottoso Il puffo biscottoso Si è rubato Un altro indizio Soluzione Cosa vuol dire Il puffo biscottoso Si è rubato Un altro indizio Puffo biscottoso I puffi sono azzurri Sono blu Quindi pappagalino blu Vediamo No Qua c'è qualcosa No Ok Qua dentro C'è una miniera Ok non penso sia qualcosa Qui il puffo biscottoso Che cosa Che senso vuol dire biscottoso Continuiamo a cercare per bene ragazzi Non voglio subito usare la soluzione Ah Può essere che è lui No No Non credo C'è una mappa Ma non penso sia questa No no Non è questa mi sa Però può allassarci Perché sono due biscotti qui E questo qua A meno che non c'è qualcosa Dietro Di nascosto No no Non c'è proprio nulla Ragazzi Sto pensando Aspettate Uh sono azzurri Proprio alla singolare Puffo biscottoso Beh con i puffi Allora Se pensiamo ai puffi ragazzi Cosa ci viene in mente Il color azzurro Sono piccoli Poi ho detto biscotti Quindi qualcosa con il biscotto E E poi cosa ci viene a pensare Penso dei funghi Quindi questa è la mushroom Aspettate C'è qua un fungo però Se ho indovinato raga No Uh Invece si c'era una shulker box Con un altro libro Ragazzi ho indovinato Ma seriamente I puffi non sono gli unici Chiamano i funghi Rip Ma quello è un lapras Ma ha fatto un lapras Ma Oddio Raga Ma è il culo di Charmander C'è dal sedere di Charmander Spunta la crafting No vabbè raga Io non ho parole Aspetta allora Ha detto I puffi non sono gli unici Che amano i funghi Quindi possono essere le mushroom A questo punto raga Controlliamo bene Sotto la mushroom Se c'è qualcosa No non c'è nulla sotto la mushroom Ok Eh è perché Pensando ai funghi Questo qui viene in mente raga Uh rip Attenzione ci siamo Allora In memoria La scomparsa Dovuta al server E dalle ore perse Nel trasporto Ah giusto Raga Mi sa che Eccolo lì il libro Eh già Eccolo qua raga Un altro indizio Mamma mia Sta durando tantissimo Questa caccia del tesoro Pensavo di farne di più Ma veramente lunghissima Mi piace un casino Ormai cibo per i pesci I pesci pokemon Ah 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 Lapras detected Sottomarino Lapras Uh Raga ma io voglio capire Alla fine cosa ci porta Tutto questo coso Si entra da sotto Da qui si entra Ok eccoci Siamo dentro ragazzi Il Lapras Sono due shulker box Vuote Due chest Vuote No raga Veramente Attenzione c'è un'altra shulker Vuota Una shulker bianca Eccolo qua Trovato Raga Siamo troppo p Come il sottomarino Lapras Viaggi negli infiniti sfondali marini Galeole lo naviga Lungo e largo E anche chi comanda Deve riposare Find the button O meglio Ma circo boot Perché è scritto in siciliano What Comunque Allora di qua c'è la soluzione Che non voglio leggere ragazzi Ok Quindi analizziamo insieme Di nuovo il messaggio Come il sottomarino Lapras Viaggia negli infiniti sfondali marini Il galeone lo naviga Il lungo e il largo Quindi già Ci fa intuire Che è il galeone E anche chi comanda Deve riposare Quindi Se Raga Ho già capito Dobbiamo andare nel galeone Nella stanza Del capitano Sicuro Sicuro Quindi La stanza del capitano Dovrebbe essere Questa qui Sala riunioni Poi ho detto che È una find the button anche Dobbiamo fare attenzione Allora controlliamo bene Ok Vediamo Nelle ceste Non c'è nulla Ok Dobbiamo cercare Un bottone Ma non credo Di sia questa qui La stanza del capitano Però raga Lo sapete Forse è sotto Andiamo un attimo Di nuovo Ad esplorare Questo bellissimo galeone Uh c'è una ceste Ok è vuota Allora C'è la Di qua Da qualche parte Dormito Dove essere C'è la stanza del capitano Che è questa Cabina privata Uh ok Allora Infatti qui dove riposa Allora Ho detto che I'era find the button Dobbiamo cercare Ragazzi un bottone Mamma mia Quanto è bella Questa caccia del tesoro Ragazzi Mi sta piacendo un casino Allora Oh eccolo No vabbè raga No vabbè raga Siamo seri Siamo seri Siamo seri Eccoci No raga Alla fine ciò che conta Non brilla Ma si trova nello stomaco Quanto è bello mangiare E' arrivato il momento Di affrontare Le tue paure No Non me lo dire Se si parla di minecraft Ragazzi Si parla di mie paure Ci stanno di mezzo I guardiani Alla fine i guardiani Non fanno altro Che tenere d'occhio Ciò che da proteggere Soluzione Non voglio girare ragazzi Raga Allora Rianalizziamo i messaggi Quindi Paura mia Aspetta No ci sono già arrivato Intanto E' tutto vuoto Uh attenzione No Tira le le sette Il prezzo Madonna raga Questo qui me lo prendo Allora E' mio Raga ho capito Già dove andare Qua fuori Lui ha fatto Un piccolo guardia In stile Kibicibi Come lo andrò probabilmente A farino alla vanilla E lo ho visto Se non sbaglio Eccolo qua No raga Non ci avrei mai fatto caso L'occhio del guardian E' una shulker box Guardate Mi sono riempito di libri Raga Aspetta dovevo posarli Raga Altro libro Mamma mia Ma tutto il tempo ci ha perso Per farla Questo guardiano Non è altro che scagnozzo Attraverso la squid rossa Si arriva al cospetto Di colui che Tiene d'occhio Il tesoro Ovvero il boss Squid rossa Questa qui Quindi si scende sotto Uh Arrivo Uh Uh E dove dobbiamo andare Armi Armature Beacon Lavori in corso Sarà per di qua No Dai No raga Vabbè comunque Veramente Mi sa che è una delle migliori Caccia del tesoro Che abbia mai fatto Finora No Quanti biscotti Oddio Book and Quill Leggiamolo ragazzi Congratazione Ora hai molti biscotti E guarda caso raga Oltre che Guardate quanti libri Ho preso una sciulca D'arancione Per mettere tutti i libri Di questa caccia Al tesoro Ragazzi Mamma mia Quanti La cosa bella è che C'è un sacco di biscotti Quanti stack sono Mamma mia raga Sono tre stack e 28 Delle mele d'oro Ottimo Delle golden carrots E raga Io un biscottino Ora per festeggiare Insieme a voi Me lo pappo Ah Mangiamone ancora un altro Dai E già ci siamo Ci mangiamo adesso pure Una golden carrots Perfetto ragazzi Questa caccia Al tesoro Finisce qui E' durata Un intero Episodio E' stata una caccia Al tesoro Veramente bellissima Mi ha fatto fare Il giro del mondo E spero tantissimo Vi sia piaciuta Fatemi sapere Mi raccomando qua sotto Con un mi piace Un commento E detto questo raga Questo video Di minecraft city Può anche Finire qui Quindi ragazzi Questo vi finisce qui Spero vi sia piaciuto Se si fatemi sapere Con un pollice in su Un commento qua sotto Vi ricordi di passare in descrizione Perché lì sono tutti i link dei miei social Come Instagram E Telegram Mi raccomando Secondo me sono entrambi E se ancora vi siete iscritti al canale Vi invito ad iscrivervi Volendo per iscrivervi al canale Basta che cliccate Nella notte che sta qui Accendendo lo schermo E se già l'avete fatto Puoi cliccare a sinistra e a destra Per vedere un altro mio video No ragazzi Detto questo Io vi saluto E noi ci vediamo Oggi pomeriggio Alle 15.00 Con un nuovo episodio Della Pixelmon Ciao A tutti Dì